Ciao a tutti e bentornati con una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Zelter, un gioco survival in pixel grafica, mi ricorda a livello grafico un pochino uno Stardew Valley, un graveyard keeper, ma a livello di gameplay più un cryofall o un game project. Allora, non è nulla di assolutamente innovativo se non che mi ricorda anche un Road to Canada che era un bel narrativo a scelte multiple con una diciamo ambientazione un po' stile zombie. Ora qua siamo ugualmente stile zombie, abbiamo gli oggetti che possiamo prendere e portare con noi, vi faccio vedere anche la prima casa che possiamo visitare. Graficamente io lo trovo carino, ma a me non dispiace questa questa grafica. Possiamo bere e dovremmo idratarci. Adesso proviamo a bypassare gli zombie senza che... ok ok. Qua c'è un mondo da esplorare però è tutto purtroppo guidato da queste questi cancelli. Abbiamo un'arma, l'arma è molto bella come idea perché dobbiamo fare attenzione che sparando non basta solo la direzione, bisogna proprio mirare alla parte di zombie che vogliamo colpire e dobbiamo fare attenzione alla ricarica. Poi adesso vi faccio vedere il menu appena riesco a... ok. Il gioco poi dovrebbe in teoria salvare quando andiamo a dormire quindi devo fare attenzione a non morire. Col tasto C apriamo la tabella di crafting dove possiamo andare a craftare varie cose. Tra il cloth, l'ascia, la balestra e la wooden plank. Cliccando andiamo a craftare. Tutte cose che ci servono poi per altri crafting. Abbiamo sbloccato anche la general workbench, il bonfire, insomma ci sono un po' di cose da fare. E poi col tasto T apriamo il tablet dove vediamo il nostro stato, la fame, la sete, il bisogno di riposo. Qua vedete quello verde dovrebbe essere la fatica. Abbiamo la crew perché qua un po' come del survivalist possiamo trovare altri sopravviventi vissuti, sopravvissuti, che non sono scimmie in questo caso ma sono altri sopravvissuti appunto che ci daranno una mano, ci seguiranno, ci aiuteranno a craftare le varie cose. Ora qua hanno distrutto la porta però vabbè io potrei già cimentarmi e mettermi a fare questa. Ma devo fare la wooden plank, quindi craft, un'altra wooden. Hanno distrutto tutte le porte qua. Comunque cosa brutta che ho notato che gli zombie comunque sono molto intelligenti per essere zombie, fanno i giri, vi scrivono gli ostacoli e vi seguono alla morte. Quindi al momento il gioco resterà in early access un po' ma gli sviluppatori hanno detto che ogni due mesi circa, due o tre mesi, rilasceranno aggiornamenti grossi, importanti, quindi con stravolgimenti magari di meccaniche di gioco. Comunque adesso piazzo, qui, il tavolo da lavoro. Quindi inizio già a mettere le basi per una zona. Questa dovrebbe essere una zona protetta quindi qui possiamo avere fonte di pietra, di legno quasi illimitate nel senso che abbiamo anche di cibo perché ci sono le mele. Abbattendo comunque qua anche l'albero con le mele. Oltre a trovare il legno troveremo anche le mele. Quindi qua il gioco ci dà l'opportunità di partire bene. Vedete che quando avanzate in direzione opposta dove state guardando lui cammina piano e poi iniziava veloce. Stessa cosa così. Allora abbiamo fatto la workbench ma voglio finire di farvi vedere il menu perché qua avevamo la crew e qua le recipe. C'è tutte le ricette che noi siamo andati a sbloccare con le varie scoperte di vari materiali. Sono parecchie. Fornace, carbone. Cioè mi ricorda molto appunto dicevo Game Project ma è più orientato all'azione. E la meccanica di shooting è un po' sullo stile di Road to Canada. Allora qua apriamo ma non vi dico niente di nuovo perché ormai avendo portato dai 400 ai 500 giochi diversi sul canale è difficile per me anche sorprendermi. Alla fine le meccaniche sono sempre quelle. La cosa importante è che è un gioco di sopravvivenza, è un gioco con gli zombie, è un gioco in pixel grafica. Se vi piacciono da morire questi tipi di giochi beh questo non è l'unico ce ne sono tantissimi però potete scegliere quelli che vi piacciono di più. Cryofall per chi magari vuol giocare online con altri giocatori, multiplayer, con amici insomma anche su server pwe. e hanno aggiunto da poco anche la gestione dell'energia, un sacco di cose in più. Chi ama magari una cosa un po' più stile fantascientifico senza però troppi rappelli a livello di gestione energetica della base, magari va a giocare un Kepler. Ogni gioco è diverso e quindi diciamo che chi è appassionato, ripeto, di giochi di sopravvivenza, giochi di zombie, giochi in pixel grafica, ha pane per i suoi denti. Ora abbiamo fatto la workbench, possiamo fare la siowenstation che mi chiede anche della plastica, il bonfire, la fornace, la woodenk, la cupa di legno insomma e il droller che dovrebbe essere un chest insomma. Allora dobbiamo recuperare anche della pietra ma la pietra dov'è? Possiamo abbattere questo però non vorrei, vedete che c'è quella diciamo barra verde che diminuisce. Dovremmo farci un piccone, il problema è che dovremmo trovare anche il piccone. Vabbè, intanto abbiamo recuperato anche questo, vediamo se ci si è aperto un altro ok, facciamo la fornace, tech, craft della fornace, tasto 4, l'errore è che, uh, crafting cancellato ok, no, dobbiamo rifarlo allora. La cosa che dovete fare, attenzione a non fare, è fare come ho fatto io che sono andato direttamente in città di là e sono morto 35 volte. Bisogna partire da qui e pian piano craftarsi tutto. Potremmo fare il copper, l'iron o il carbone. Craft anche il carbone in modo magari da sbloccare qualche ricettina nuova perché come vedete col tastorice all'inventario possiamo trascinare le varie cose dalla barra veloce dove è possibile, dove è un oggetto interagibile alla belt. Se equipaggiamo l'arma, qua in basso a destra vedete anche le munizioni che devo caricare ci manca un letto per dormire, quindi dovremmo craftarci anche quello, però al momento credo che ah, la Sewing Station è quella per il, no, è per il, per craftare, andare di lavoro a maglia insomma wooden plank non abbiamo abbastanza legname, quindi dobbiamo andare a tagliarlo andiamo, poi andiamo magari anche di là e facciamo un po' di razia non ne dà tanto a dire la verità, ah guardate c'è della pietra messa lì così vabbè intanto raccogliamo un po' di tutto allineiamo, ce n'è un po' ovunque qua vagando in questa zona che ho scoperto essere abbastanza grossa, tutta circolata da rete, quindi non c'è neanche il rischio, vedete questa rete qui non c'è il rischio di sconfinare da nessun'altra parte, questa zona è sicura poi, eh, fatti vostro insomma, se andate oltre, perché gli zombie vi seguiranno in capo il mondo anche un project zomboid, ecco diciamo, un project zomboid molto meno profondo, eh, ben inteso allora facciamo wooden plank, andiamo a craftarne di più, vedete che ci dà anche i secondi che vengono richiesti per il crafting di tutto e dobbiamo stare davanti, perché se ce ne andiamo non ci crafta più la roba, quindi bisogna stare qui e aspettare il gioco, ho detto, costa 20 euro, 19,99, attualmente scontato a 18,17, insomma non è sicuramente un gioco per tutti e non mi sorprenderebbe se ci fosse qualcuno che dicesse, eh, la classico minestra, il classico gioco, sì effetti non che sia brutto, assolutamente però, insomma, non è niente di innovativo devo trovare dei tessuti, ma vedete che c'è lo stone hammer io lo faccio subito, anche se in realtà lo stone hammer lo stone hammer si trova un po' più avanti, però la comodità dello stone hammer è che lo stone hammer serve a distruggere tutto la crossbow, facciamo la balestra, facciamo anche la balestra, vediamo se la balestra funziona così, senza frecce, ma dubito vediamo, ce l'equipagerà già sul 5 prevedo, sì eccola qua, eh sì, abbiamo sbloccato le frecce, infatti vedete che non abbiamo munizioni quindi vediamo, ci servirà probabilmente legno e pietra immagino vediamo arrow no, ci servono i rami grizzi e un letto semplice ok, ci serve legno, 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 legno tanto legno letto semplice, almeno salviamo la partita poi magari andiamo a fare una breve esplorazione in città prendo il legno sì, in effetti ok facciamolo ancora uno tanto molto bene ok vediamo facciamo delle frecce vediamo quante ce ne fa magari sono sono efficienti per non far casino le frecce non lo so vediamo facciamone due vediamo quante frecce ci dà però perché una adesso proviamo a equipaggiarle poi le andiamo anche a provare di là per non far casino abbiamo bisogno di mangiare abbiamo fame e sete la ricarico ok ah, bene ne fa 5 ogni volta quindi buono, dai allora devo mangiare vediamo col tablet con la T il nostro livello di fame e sete mangiamo ancora sì, dai non stiamo malissimo adesso siamo abbastanza equilibrati facciamo un po' di wooden plank voglio vedere quante me ne servono per fare il letto sarà un letto scomodissimo tutto di legno ma va bene simple bed 4 quindi ne manca una devo andare a tagliare ancora qualche alberello alberelli ne facciamo due dai due alberi prendiamo anche delle mele che almeno avremo un po' di un po' di c il gioco è single player ma non mi ricordo se l'ho già detto abbiamo la fatica quasi al minimo che la barra verde dovrebbe essere perlomeno quello quindi allora col craft c possiamo fare qualcosina non tutto però la wooden plank la possiamo creare anche così non ne abbiamo tanti a dire la verità comunque dovremmo riuscire a fare il letto il simple bed eccolo qua 10 secondi dice il problema è quando finisco i colpi quando finisco i colpi l'accetta adesso è quasi finita mi serviva pietra e legno per fare con l'accetta ma va bene piazziamo col tasto i andiamo a mettere vediamo se no me lo butto a terra così devo piazzarlo al posto del martello datemi un martello allora 4 la mettiamo il letto col tasto r si è ruota lo piazzo qui quindi qua possiamo andare a dormire sono le 5 di pomeriggio io dormiamo dormiamo fino alle 7 di mattina dormire 14 ore fa sempre bene così dicono così dicono no in realtà abbiamo dormito 7 ore però io puoi dormire cioè a mezzanotte non mi sembra il caso di andare in giro quindi vediamo un po' se abbiamo qualche status negativo direi di no poi sarà il nostro rischio pericolo trovare dei villici dei sopravvissuti e portarli con noi quindi non è proprio così banalotto il gioco come magari ci si può aspettare visto così di primo impatto io vorrei la mattina andare aspetto un'ora alla volta adesso anche se siamo completamente riposati però è buio sono le 5 dai ancora un'ora dai le 6.20 possiamo uscire andiamo sperimentiamo anche la balestra e si dai inizia già a esserci un po' di luce prendo la balestra allora prendo il martello lo metto qua che non si sa mai però quello che ho avuto modo di sperimentare è che le armi corpo a corpo l'accetta il martello non fanno un grandissimo danno quindi allora qua troveremo un altro martello di sicuro eccolo lì perché è tutto abbastanza guidato sopra ci sono delle leggi militari quindi la strada qua è solo un passaggio perché poi bisogna andare qui poi qua col tasto 4 prendiamo il martello e possiamo demolire le varie cose dove all'interno troveremo materiali a me piacerebbe trovare il il tessuto per poter fare ok per fare il tavolo del del sarto allora bello che potete aprire anche le finestre vedete per sparare presumo quindi sparare dalle finestre però qua non c'è niente quindi me ne va me ne va eccolo lì un altro voglio vedere se funziona la balestra ricarica ricarica e magari la balestra non fa rumore ok ho recuperato un po' di roba si when station ah non me lo fa prendere perché devo buttare qualcosa io ho preso anche un lingotto di metallo un frutto arrostito io lo uso cliccando con il destro poi si può ok grazie molto molto interessante waste bag si può cambiare anche la 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 borsa vedete non è così banale come sembra il gioco perché adesso voglio vedere se sta sparando ok 4 voglio vedere cosa si trova all'interno di questa mi è entrato un bel po' di roba un bel po' di roba voglio farmi anche queste e poi me ne vado perché il gioco è molto pericoloso spero non esploda che io sappia non si possono guidare le auto però è un gioco sicuramente da tenere d'occhio perché non mi prende la roba cosa ho di troppo rag le frecce stone e mangio questo allora scusami ok grazie prendo tutto ok andiamo torniamo indietro torniamo indietro ma c'è anche il piano sotto sono andato sopra vediamo se c'è qualcosa al piano sotto c'è il bagno da cui possiamo attingere della buonissima acqua c'è un frigorifero scusate che non si può con quello non si può interagire però voglio demolire questa cucina che è veramente brutta bella la grafica del frigo che si sta distruggendo ah ma si salta fuori con spazio cos'è questo non c'è spazio buttiamo leather il charcoal butto via legno tanto legno ne trovo in che ne voglio cosa che ho preso plastic piece comunque è un pezzo di plastica dobbiamo provare anche a craftare la cesta dove mettere le cose quindi adesso vediamo con lo shift si cammina oh 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 ho fatto io un colpo vabbè tanto torniamo in fretta a casa vabbè con il martello si distrugge più rapidamente i sassi in giro vabbè questa è la base dove però ci hanno demolito tutte le porte ma va bene facciamo vita di niente allora controller con 4 di legna la fornace io farei copper eh si vedete che chiede la fornace non avrà bisogno di si si devo star lì anch'io per fare il copper va bene facciamo il copper si è tutto abbastanza uno dipende dall'altro insomma quindi di cose da fare a catena ce ne sono voglio vedere c'è anche la barricata perché si possono creare le barricate di difesa la metal workbench per lavorare il metallo la torcia per illuminare di notte la sedia voglio fare il sewing station ma mi manca tutto per poterlo fare e diciamo che di cose da fare ce ne sono ce ne sono ce ne sono allora devo fare il legno quindi accetta accetta l'accetta me ne serve un botto di legna quindi devo capire me ne da due ogni pianta devo abbattere due piante per ogni blocco e mi servirà abbattere otto piante quindi intanto faccio un po' di pulizia qui adesso che abbiamo finito la barra verde sta scendendo la barra rossa sotto che in realtà poi è finita subito quindi useremo il martello il martello però ci da meno legna quanto pare no ci da la stessa identica legna di prima vediamo vediamo per fare il il droller 4 no quindi possiamo farne 4 fantastico possiamo già farne 4 wooden plank perché your bag is full ok quindi mi mangio frutto butto per terra cosa cacchio butto per terra boh buttiamo giù il copra eh vabbè facciamo quello che dobbiamo fare wooden plank 4 grazie si non capisco avevo spazio qui probabilmente lo vuole nell'inventario sì perché in effetti la bella la cosa tutto quello che non è equipaggiabile non va lì va bene facciamo il drone drawer craftala e vediamo se abbiamo risolto i nostri problemi di spazio finalmente sì direi che qua la possiamo equipaggiare scusate possiamo depositarla lì space interessante come cosa vediamo come funziona sì direi che si appoggia di là col tasto no bisogna proprio trascinarle non no 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 ok niente non è proprio comodissimo come sistema però almeno abbiamo un inventario qui di casa con tutte le cose bella il fatto che ci siano gli slot all'interno del disegno molto bello del baule e niente questo è l'inizio del gioco allora io spero di avervi incuriosito con questo inizio di zelta fatemi sapere che cosa ne pensate lasciate il commento come sempre qua sotto e alla prossima e ciao ciao ah non dimenticate il like se vi va insomma di andare avanti con questo gioco ciao ciao ciao